Il prossimo brano che andiamo a eseguire è l'omaggio a un grandissimo organetista, forse uno dei più grandi del mondo, lo si chiamava Mark Perrone, un vecchio amico della scuola, è stato qui almeno un paio di volte in questi 30 anni di attività della scuola, 31, è un organetista che vive in Francia da sempre ma di origini italiane, che ha una malattia che lo porta ad avere sempre più difficoltà a suonare, però ha ancora una grande testa, compone delle bellissime cose ancora oggi e noi li vogliamo molto bene e è un grande affetto che gli rendiamo questo amaggio, che è un brano che si chiama Vasimimi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.